Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Terra Luna, ma prima di iniziare l'invito, come sempre, iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Il prezzo attuale di Terra Luna è di 81,33€, attualmente sta scendendo del 2,29%, la capitalizzazione di mercato sta aumentando, ma ora attualmente è di 30 miliardi di euro, e il volume, guardate quanto ha di volume nelle ultime 24 ore, e ripeto che è in aumento del 6,19%. Allora, come tutti noi sappiamo, da un mese a questa parte Terra Luna ha avuto un rialzo incredibile. Ho appena visto che non ti sei iscritto al canale. Che cosa aspetti? Attiva la campanella, iscritti al canale, e soprattutto guarda i nostri contenuti, perché ne vedrai veramente delle belle. Mi raccomando! Il suo minimo, da un mese ovviamente, era di 47€ e arrivata praticamente un massimo di quasi 95€. Ma ora vi spiegherò tutto. Iniziamo, prima cosa a dire, che cos'è Terra Luna? Allora, Terra Luna è un network in blockchain che oggi offre tre primitivi del mondo finanziario. Possibilità di pagamento, possibilità di investimento, anche di scambio di titoli, e più accantonamento ai risparmi. Come diventerà più chiaro nel nostro video, ora vi andrò a spiegare passo dopo passo la sua funzione e perché potrà salire. I pagamenti. La genesi di Terra e del suo token si ha, ovviamente, nell'ambito degli e-commerce. La società è stata infatti fondata da Daniel e Duke No, coreani che erano già stati coinvolti nella creazione di sistemi di pagamento, molto utilizzati nel sud-est asiatico e in Corea. Anche e soprattutto nello sviluppo di diversi sistemi di e-commerce. Con Terra possiamo praticamente pagare utilizzando diversi stablecoin sviluppati proprio, che hanno un controvalore immediatamente convertibile. Per quanto riguarda i risparmi, tramite soprattutto il sistema di Anchor possiamo bloccare della liquidità all'interno del progetto per ottenere dei rendimenti. Sono rendimenti alti rispetto a quanto possono offrire oggi le banche, ma comunque relativamente bassi nell'ambito del mercato delle cripto. La nota positiva è che possiamo, qui come accade su tanti altri network, bloccare somme in stablecoin, rimanendo dunque al di fuori delle oscillazioni naturali di token cripto come Luna. Mentre, per quanto riguarda gli investimenti, la stessa società che gestisce Terra l'ha fondato anche il sistema Mirror, che integra nella medesima blockchain un sistema intelligente per la tokenizzazione di asset finanziari e non. Possiamo dunque creare ad esempio un token che rappresenta esattamente il valore delle azioni, faccio l'esempio Nike, o di qualunque altro titolo quotato in borsa. Il token sarà scambiabile all'interno del network e potrà essere convertito in qualunque momento in denaro. Il sistema è integrato lungo i tre primitivi del sistema economico, ovvero i pagamenti, investimenti e anche il risparmio, con soluzioni soprattutto intelligenti e innovative che hanno reso Terra uno degli oggetti e soprattutto dei progetti più interessanti del 2022 e oltre. Dovremmo anche capire come all'interno di questo ecosistema viene utilizzato il relativo token Luna che ha in realtà diverse modalità di impiego. Faccio l'esempio anche delle stablecoin che relativamente al sistema di pagamenti Terra emette degli stablecoin che sono ancorati alla divisa nazionale coreana, a quella mongola e anche al dollaro USA. Un sistema che mette a riparo della volatilità delle cripto e che è di assoluta stabilità, pur ricorrendo un sistema all'interno basato sui token Luna. Vedremo tra poco come funziona il token Luna. Ma ovviamente io oltre questo vi faccio vedere anche il prezzo massimo che potrà raggiungere. Ma ora andiamo a chiedere e parlare soprattutto come funziona Terra Luna. Allora, diciamo che ci sono diversi componenti che sono integrati all'interno di questo progetto, che funzionano sia in modo integrato sia invece come Stand Elon, in una scelta progettuale che permette a tutti di utilizzare la parte utile alla loro necessità. Quindi sistemi di pagamento via app, quindi l'ecosistema di network, soprattutto già molto popolare l'app Chai in Corea del Sud e MMPay in Mongolia. Il sistema è diffuso obbligamente, viene accettato da moltissimi shop online e muove già circa un miliardo di dollari ogni anno. Gli utenti attivi sono oltre 2 milioni per un progetto che è in fortissima espansione. In questo caso il network Terra si comporta da intermediario decentralizzato che permette di spostare gli stablecoin da un wallet all'altro. Andiamo a parlare anche degli stablecoin che svolgono un ruolo centrale almeno fino ad oggi. Il prezzo viene ancorato a quell'ufficiale delle valute con un sistema libero basato sull'arbitraggio. Quindi per ogni stablecoin token emesso esiste un controvalore in Luna. Al crescere la domanda per Luna si aprono situazioni di arbitraggio che i partecipanti al network hanno interesse a riportare in equilibrio perché si tratta di operazioni con guadagni molto ma molto facili. Parliamo anche del sistema Mirror che è una delle prime aggiunte al network ed è stato sviluppato soprattutto dalla stessa casa madre che si occupa di gestire la blockchain Terra. Il sistema permette soprattutto di creare asset tokenizzati che rappresentano il valore di un asset finanziario esterno alla blockchain. Per farlo dovremo depositare il 150% del controvalore dell'asset tokenizzato che sarà per sempre ancorato al token che noi abbiamo creato. Poi ci sono ovviamente tantissime altre funzioni che se volete le porterò però ovviamente il video si sta prendendo questa piega e io magari se volete siete soprattutto disponibili a sentire per quanto riguarda il token Terra-Luna magari per avere ulteriori diritte per quanto riguarda questo token lasciate sotto nei commenti ma ora arriviamo alla parte più del video. Quanto potrà costare Terra-Luna in futuro? Allora come sappiamo tutti quanti c'è, esiste soprattutto un tool dove ci permette di andare a guardare il prezzo futuro di diverse criptovalute. Ma allora andiamo a vedere più che altro. Attualmente vediamo che le monete di Terra-Luna sono tutte queste qui meno male che c'è anche e soprattutto il barn infatti nell'ultima 24 ore non dimentichiamo che c'è stato un barn incredibile veramente, veramente tanto e ora sta prendendo una bella piega finalmente questa cripto. Andiamo avanti comunque a dire che la capitalizzazione di mercato è di 30 miliardi di euro e ovviamente attualmente è nella settima posizione delle top criptovalute. Andiamo a vedere quale secondo me ragazzi bene sì perché secondo me potrà arrivare alla capitalizzazione diciamo di Ethereum ovviamente non raggiungerà non dico che raggiungerà il valore di Ethereum l'importanza di Ethereum però secondo me andando avanti col tempo e vedendo soprattutto nuovi soprattutto investitori nel mondo delle cripto ragazzi Terra-Luna comunque a differenza di anni potrà fare veramente la differenza. Andiamo a vedere eccolo qui market cap of Terra-Luna abbiamo selezionato come prima cripto andiamo a vedere che con la capitalizzazione di Ethereum perché secondo me 291 miliardi di euro li porrà raggiungere arriverà al prezzo di 868 dollari e andrà in guadagno del 9,7 per quindi ragazzi questo secondo me potrà essere raggiungibile ovviamente io penso in una maniera veramente tantissima positiva perché Terra-Luna è una cripto che a me piace veramente tantissimo e secondo me andando avanti non dico che nel breve periodo ma ovviamente andando avanti col tempo potrà avere ovviamente le sue soddisfazioni. Ok ragazzi per questo video è tutto se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao e a presto